Un fascicolo è stato aperto, un procedimento penale è stato avviato, per il momento contro i gnoti. Del resto, il sequestro dell'abitazione e la posizione dei sigilli erano il frutto della necessità ravvisata dalla procura di accertare cosa abbia determinato la morte. Il bimbo di nove mesi fu allattato dalla madre alle 4 del mattino di martedì scorso. La donna poi disse di averlo trovato morto alle 11, ma solo alle 15 decise di fare una chiamata al 118. L'arrivo dell'ambulanza e degli operatori sanitari servì solo a constatare il decesso e a far scattare la necessaria segnalazione alla polizia. Da qui le prime indagini e l'autopsia disposta dagli inquirenti, che però non sarà eseguita prima di sabato prossimo. Il pubblico ministero di turno, Santo Fornasier, ha nominato un medico legale di Catania, il quale è venuto a Comiso ed ha compiuto una prima ispezione cadaverica. Sono state rilevate diverse chimosi sul corpicino ed anche una frattura al braccio. Per questa ragione si è reso necessario il trasferimento del piccolo cadavere a Catania per l'esecuzione di un'attacca ed altri accertamenti, il cui esito si preannuncia decisivo per stabilire se il bimbo sia morto per cause naturali o se invece sia accaduto qualcosa, o ancora peggio, possa essere stato vittima di violenza. Nell'abitazione di via Pace a Comiso il piccolo viveva con la madre, una donna di nazionalità romena e il suo compagno tunisino. Il padre, anche egli tunisino ed ex marito della donna, è invece in carcere. La donna e il suo compagno sono stati a lungo interrogati la sera di martedì e per l'intera notte. Gli investigatori cercano qualunque elemento utile a dare una spiegazione che, in via certissima, potrà essere sancita solo dall'esito dell'autopsia, che però ancora non viene fatta.